Musica Allora, anche quest'anno abbiamo organizzato la Sagra della Castagna, l'associazione circolo noi con voi di Cotronei. L'abbiamo organizzata con tanta voglia di metterci alla prova, infatti sono 11 anni che con tanto lavoro e sudore comunque la organizziamo. Quest'anno l'abbiamo strutturata in una tre giorni, il primo appuntamento è stato venerdì 8, ovvero ieri, con un appuntamento culturale. Abbiamo coinvolto l'istituto comprensivo di Cotronei in un concorso di disegno, canto e poesia. In questa occasione i bambini si sono scatenati e hanno rilasciato la propria vena artistica. Abbiamo assistito a tante performance anche musicali. Poi la sera abbiamo fatto la degustazione in onore a San Martino delle principali cantine vinicole e crotonesi. Questa sera, sabato 9, siamo qui in attesa dell'inizio del concerto dei Gastrum in Quartet e Angela Bianco. La manifestazione ha preso la piega più folcolistica popolare, infatti abbiamo organizzato i soliti giochi tradizionali. Poi offriamo anche la degustazione di calterroste, castagne bollite, i cosiddetti valleni, crustoli anche a base di castagne, così anche come tagliatelle alla castagna. Domani proseguirà sempre con lo stesso modus operandi, cambierà l'aspetto musicale, infatti avremo gli otto più street band di Strongoli Marina. L'auspicio per la nostra associazione è che anche l'anno prossimo possiamo organizzare questo appuntamento con la stessa voglia e con lo stesso impegno. Voglio ringraziare non solo tutti i cittadini cotronei ma anche tutti gli amici che ci seguono sui social network, dai paesi limiti, dalla provincia di Cosenza, di Reggio Calabria, che sono corsi numerosi. Bene, l'invito è di seguirci, continuare a seguirci per le prossime iniziative sui social e, cosa direi, buon divertimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.